E' stata inaugurata stasera nel complesso monumentale di San Domenico a Trapani la mostra Trapani in foto, alla sua undicesima edizione. La rassegna fotografica in collaborazione con l'Associazione Colori della Vita sarà aperta al pubblico dal 21 ottobre a 6 novembre. Ascoltiamo ai nostri microfoni l'organizzatore dell'evento Arturo Safina. Nella decima edizione che abbiamo fatto nel novembre 2021 abbiamo deciso di programmare questo festival dedicato ai soci del gruppo Scatto, l'Associazione Colori della Vita. C'è stata una selezione fatta da Sandro Joveni che è un docente di fotografia di Milano all'FPMAG, ha selezionato questi lavori dei soci e questo è il risultato di questa serie di mostre. Sono 13 soci. In più abbiamo una mostra di un prestigioso fotografo internazionale che è Francesco Cito che ha portato una mostra sul Palio di Siena. Questa è alloggiata in esposizione al Museo d'Arte Contemporaneo San Rocco. Trimprogramma? Ce ne sono tanti. Intanto domani pomeriggio alle 18 presentiamo un libro di Cristaldi che è un fotografo di Catania e questo verrà fatto in albergo San Michele. Perché? Perché San Michele ospita una nostra mostra collettiva nella loro location. Poi domenica abbiamo un altro estremamente importante evento che è un incontro con Michele Fundarò che ci parlerà della fotografia e dei fotografi dell'Ottocento e Novecento e questo si svolgerà nel Museo d'Arte Contemporanea a San Rocco. Domenica pomeriggio alle 15.17.30. Domenica pomeriggio alle 15.17.30.